Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video spesa EUROSPIN vi faccio vedere subito cosa ho preso e come al solito lo scontrino in fondo per i prezzi allora per prima cosa ho preso un cartone intero di bottigliette di tè al limone e tè alla pesca non gliele farò portare tutti i giorni sono diciamo più che altro per manuel e giorgia e non gliele farò cioè giorgia lo porta quando fa il pranzo al sacco e invece manuel perché così almeno evita di prendere bibite dalla macchinetta che sicuramente costano di più e poi magari lui magari tende a scegliere coca cola cose così invece almeno il tè è un po' più easy diciamo ha anche l'acqua sempre dietro però per avere anche un po' di zuccheri infatti non ne fa mai andare una bottiglietta al giorno però così almeno ha quella lì dietro poi ho preso tre sciampi ne ho presi anche altri ma per il momento vi faccio vedere questi perché non so dove sono ho preso questo qui purificante formula con limone ortica e acido salicinico per capelli grassi quindi perfetto per me poi ho preso questo qui fresh care che è antiforfora con antibatterico e poi lo shampoo illuminante con formula madre perla e seta e da una brillantezza e un tocco setoso per capelli spenti poi ho preso due candeggine delicata per i bambini più piccoli ho preso il tè al limone e il tè alla pesca questo qui nel bricchetto così da alternare a bottigliette d'acqua e tè tipo magari due giorni bottigliette d'acqua un giorno tè così almeno anche loro magari sono un po' più contenti poi le carote invece dei succhi le carote queste qui in vassoio da un chilo ne ho prese due un cavolfiore un pacchetto di cracker con pomodoro e origano da dare a loro da portare a scuola poi ho preso alcuni broccoli non mi sembra non mi ricordo se tre quattro cinque sei qui comunque ce n'è uno poi vi farò vedere gli altri tre pacchi di cuori di iceberg qui ce ne sono solo due perché uno ancora in giro poi un'insalata mista questa qui grande da 500 grammi questa qui contiene pan di zucchero radicchio e indivia a me piace a loro un po' di meno ma a me piace poi ho preso anche questa qui gran mista che ha anche le carotine a julienne un pacco una confezione una rete di cipolle da un chilo due avocado ma per adesso ho trovato solamente questo che viene dal messico e poi ho preso questa pasta qui trafilata al bronzo che è in offerta e ho preso penne, tortiglioni e orecchiette due, due e due quindi di questa gli altri non me li faccio vedere perché tante sono uguali adesso metto a posto questa e poi vi faccio vedere l'altra poi delle banane ne ho presi due caschetti due altri due champi uno sempre antiforfora due in uno con formula con tè verde e poi questo qui fortificante formula con pompelmo li proviamo e vediamo un po' come sono mandorle sgusciate e nocciole sgusciate cracker integrali melanzane ne ho presi quattro due pacchettini di cavolini di Bruxelles un sacchetto di mele poi, ah qui c'è l'avocado quest'altro è fatto così e questo qui invece è origine marocco poi le arance ho preso questa confezione da 3 chili varietà tarocco origine Italia Sicilia gli altri tre broccolini queste clementine senza semi un chilo e mezzo un chilo e mezzo origine Italia poi queste qui è sempre mandarino si chiama tardivo di ciaculli e origine Sicilia e poi ho preso anche quest'altre arance che sono le tarocco e sempre zona di produzione Sicilia un chilo e mezzo un sacchettone da 4 chili di patate e due sacchetti di valeriana per il primo giro siamo arrivati alla fine perché poi sono dovuta andare a prendere Giada a scuola che non stava bene e quindi oggi pomeriggio andrò poi a prendere il resto della roba ho preso altre due casse d'acqua piccola il cavolo scusate la lavastoviglie sta scaricando e il cavolo romanesco ne ho presi due e due e niente quindi per questa prima mandata è tutto vi lascio qui adesso lo scontrino nella pausa di tempo per poter andare a fare il secondo pezzo di spesa perché alla fine non sono andata nel pomeriggio ma sono passati due giorni e ancora non sono andata andremo domani mattina io Giada e Pia sono andata a prendere i pellet e intanto ne ho preso un nuovo tipo e intanto ho preso due o tre cose giusto per fare oggi per avere per stasera cena ho preso questo cosce di pollo che andrò a fare al forno con le patate e poi ci metto anche insieme la verdura ah no le patate no perché mangiamo già la pasta solo la verdura adesso vedrò che farò un misto di verdure al forno con le cosce poi la polpa mutti per condire appunto la pasta stasera il tonno per fare al naturale per fare pasta tonno e broccoli il formaggio per condire pasta tonno e broccoli e poi ho preso queste tre tortine alla frutta la nocciola e al cacao per i bambini per oggi a merenda per domani a colazione insomma per mangiare qualcosina perché comunque ho giornate piene e non riesco a cucinare un granché quindi poi manca anche la roba per stare a fare la spesa e poi abbiamo preso anche un pacchetto di tucche che si stanno mangiando le bambine e niente qua queste le pagate un euro questo mi sembra non me lo ricordo questi due euro e trenta l'uno questo tre euro questo mi sembra due euro e cinquanta carissimo ovviamente perché è un negozietto piccolo però niente vado e ci vediamo domani con la seconda parte della spesa dell'euro spin finalmente sono riuscita ad andare allora ho preso queste crocchette qui per Olivia le solite che a lei piacciono tantissimo quindi va benissimo così per oggy ho provato a prendere siccome quelle grosse diciamo non gli piacciono ma gli piacciono di più quelle più piccine tipo queste qui che prendo a Olivia ho provato a prendere di queste che sono a metà e sono a forma di ossicino provo a vedere se queste qui gli piacciono altrimenti cambieremo fino a che non troverò una crocchetta che comunque vedo che gli piace poi abbiamo preso perché sto cambiando alimentazione anche a loro voglio stare più attenta cercare di fare in modo che 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 mangino meglio poi ho preso la piadina romagnola e gp alla riminese ne ho presi tre pacchi queste qui sono quelle da cinque piadine che per noi sono le migliori e come formato intendo e andremo a mangiare oggi a pranzo poi ho preso di nuovo questa pasta trafilata al bronzo intanto perché era in offerta e poi perché mi è piaciuta veramente veramente tantissimo e quindi sicuramente quando ricapiterà che in offerta ne farò di nuovo scorta adesso ne ho presa solamente un po' così tanto per assaggiare tutti i formati ma è veramente buona ho preso mezze maniche fusilli bucati corti tortiglioni e penne rigate di tutte ho preso due pacchetti e poi ho preso tre confezioni di spinaci porzionati questi qui da 600 grammi poi ho preso quattro mi sembra ma qui ce ne sono solo tre di bocconcini in salsa di pollo e tacchino per Oggy perché anche per quanto riguarda questa cambierà quindi Oggy avrà la sua il suo formato e Olivia avrà il suo formato poi il grana padano dopo grattugiato questo qui da dei pascoli italiani che è quello che può mangiare possono mangiare anche Gabriele e Maurizio American sandwich per fare i tramezzini a Giorgia e i panini a Giorgia per domani che si ferma a scuola a mangiare poi ho preso per me i nuggets di soia gli straccetti di soia e questi burger alle verdure e poi ho preso il formaggio a fette ho preso i damer e fettine di scamorza affumicata poi i burger alle verdure i bastoncini per i cani il tonno al peperoncino questo qui poi quello al naturale il pesto normale questo qui delle delizie del sole poi della selezione le nostre stelle ho preso questo pesto qua che è senza glutine io non lo sapevo quindi sono molto felice per maurizio e gabriele ovviamente poi la pasta questa qui sempre trafilata al bronzo i fusilli i viúster col formaggio ne ho preso 8 confezioni ma io non li andrò a mangiare perché a me non piacciono quelli col formaggio sono troppo salati le fettine alla provola dolce i viúster questi qui di puro suino che anche questi sono senza glutine che sono da mettere sopra la pizza il gorgonzola dolce sempre per la pizza poi per olivia ho preso queste vaschette di paté e ovviamente non gliele darò tutte ma olivia la divideremo penso in metà quindi metà al giorno adesso vedo un po' ho preso manzo e la pollo e poi ho preso anche queste qui premium manzo patate e verdure poi la prossima volta cambierò e prenderò delle altre scatolette comunque per adesso le ho preso queste qui e ho preso di questa anche un altro gusto adesso metto a posto questa poi vi faccio vedere il resto ho preso 6 pacchi doppi così di stracchino da 100 grammi le cotolette di soia il gouda i dischetti per levare il trucco 2 confezioni di hamburger di suino senza glutine poi questo tè ne ho presi due per le bambine perché avevano sete uno al limone e invece già dalla presa alla pesca il cotone non si sa mai l'aglio in granuli l'altra pappina per olivia e le fettine di formaggio fuso ho preso la confezione da 50 grammi per finire due gel per la lavastoviglie che servono sempre le spinaccine e poi un pacchetto di riso originario da 2 kg per quanto riguarda l'eurospin è tutto poi non era in programma ma sono andata siamo andate anche a Lidl e c'era tantissima roba scontata e tutto quanto quindi adesso vi lascio lo scontino dell'eurospin e partiamo con la spesa che ho fatto a Lidl allora eccoci a Lidl come vedete c'è tanta roba scontata come vi dicevo che però ha anche scadenza abbastanza lunga quindi io l'ho presa e la metto cioè la tengo da parte la metto in freezer e la facciamo andare allora ho preso qui del macinato difesa di tacchino che era consumare entro il 25 ed era il 50% ovviamente ne ho presa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ovviamente non non l'andremo a consumare tutta subito quindi la metto in freezer come faccio di solito che come vi ho già detto e rimane comunque cioè che si può poi mangiare quindi buono per me per noi anzi poi ho preso questi mini hamburger di bovino adulto di scottona e anche questi qui da consumare entro il 25 ma io li vado a mettere nel freezer poi il macinato di bovino adulto di scottona questi qua entro il 26 anche questa la vado a mettere in freezer di questa ne ho preso due forse tre poi qua ce ne sono due e questi invece sono cinque i mini hamburger poi c'era la tempestina della Mellin anche questa qui scontata il 30% con scadenza 15 dicembre 2022 per la minestrina è perfetta e poi anche i cuoricini vedete lì anche questo vabbè scade il 3 dicembre 2022 comunque c'è ancora due anni praticamente quindi prima di due anni l'avremmo fatto andare poi questo passato di patate e carote sapete non mi piacciono tanto queste cose preconfezionate però per un una volta che si è di fretta o per un pranzo veloce tutto quanto va benissimo questa qui è scadenza gennaio 2022 quindi abbiamo un anno davanti per farlo andare poi pancetta fumicata e pancetta dolce per questa qui la fumicata è ideale per carbonare invece la dolce è ideale per amatriciana la marca è la Negroni anche questa qui era ribassata quindi l'ho presa perché comunque quattro confetti mi sembra che ne ho prese sei comunque qui ce ne è quattro e vi assicuro che per farla in modo che ce ne sia per tutti non dico che ci vanno quasi tutte ma quasi poi ho preso questo prodotto a base di carne suina a grana grossa che penso assaggerò ma non credo mangerò tantissimo io comunque oggi andremo a fare le piadine quindi useremo questo e poi anche questo qui a grana fine io non l'ho mai provato non l'abbiamo mai assaggiato questo qui è scadenza il primo di marzo 2021 ma appunto facendo le piadine dubito che durerà moltissimo comunque è senza glutine naturalmente privo di lattosio quindi perfetto perché lo possono cioè più che altro Gabriele perché Maurizio non è che lo può mangiare tanto visto che ha la gotta poi i dadi della Knorr sono classici senza glutine anche questi qui ribassati ho guardato la scadenza che è su questo lato qui non si vede benissimo comunque gennaio 2022 quindi abbiamo un anno per consumarli quindi non c'è problema perché anche questi non ci durano un anno e poi ho preso con non mi ricordo se cupone o sconto della carta i funghi champignon già affettati ne ho prese due confezioni e a me piacciono però mi rompe un po' pulirli e affettarli quindi li ho già trovati affettati perfetti ho preso un minestrone di verdura questo qui da un chilo e mezzo poi qui c'è un altro macinato di scottona sempre al 50% questo maxi hamburger di pollo con zucchine e carote che insieme ci esce anche a una salsa barbecue e anche questo qua è da mangiare entro il 25 e niente questo qui adesso vediamo un attimino come conservarlo o lo mangiano subito perché non posso mica congelare anche la salsa poi una confezione di fettine di lonza di suino un altro pacchetto di pancetta dolce questo succo 100% frutta con carota mango e arancia e poi questa bistecca è una tagliata di bovino adulto di scottona vabbè metto via vi faccio vedere il resto ho preso il paccone XXL di cartigenica tre veli venti e rotoli un pacco di pan di stelle che a me non piacciono però ai bambini ogni tanto ogni tanto li riprendo ogni tanto per fare colazione la merenda più che altro per fare colazione poi come pasta ho preso due pacchi di conchiglie rigate poi ho trovato al 50% questi ravioli che ci scrivono svevi sono così non è che sono tanti cioè sono sei però da provare assaggiarli un ananas due pacchi di fagioli e tonno da mettere in mezzo all'insalata per condirla scottona un grosso grosso hamburger e poi ho preso due pacchi di salviette uno sensitive che è questo qui e poi l'altro normale che ho lasciato però in macchina nella borsa del cambio poi un pacco di fusilli da un chilo due pacchi di farfalle da 500 grammi sei passate di pomodoro un barattolo di olive nere che doveva passare con lo sconto però sinceramente mi diceva che il coupon non era stato riscattato perché il prodotto non era stato trovato probabilmente abbiamo sbagliato il formato e vabbè lo prese lo stesso tanto le mangiamo non è che poi questa questo condimento per insalate era al 30% gusto peperoni rossi e cetrioli due pacchi di sedani rigati due pacchi di mezze penne rigate ricottina senza lattosio l'ho prese per pia per farle la pastina alla sera scadono il 6 di marzo quindi da qui al 6 di marzo 3 biopesto rosso anche questo qua è al 30% aspetta guardavo ma non è senza glutine e non ho guardato la scadenza perché tanto a noi dura veramente niente insomma perché se ci condiamo la pasta la scadenza però la scadenza è lunga non so come mai vi faccio vedere sto cercando di lavare e la scadenza è 11-2023 vabbè meglio per me così almeno li ho presi scontati poi qui ci sono altri due di pancetta dolce e poi ho preso questi preparati per cuor di ciobar a 1,74 euro anche questi qua ribassati e siccome non li ho mai fatti li andremo a preparare insieme in un video e vediamo se mi vengono perché veramente non li ho mai fatti quindi facciamo questo esperimento adesso metto a posto prendo l'altra roba e ve la faccio vedere poi due pacchi di grissini questi qui friabili senza olio di palma questa confezione qui che c'era lo sconto due pacchetti di tortiglia normali e un pacco di tortiglia sui chili nell'immagine c'erano anche quelle al formaggio ma nel nostro Lidl non c'erano e quindi non le abbiamo prese poi brioche questo qui senza zuccheri aggiunti anche queste qui ribassate non ho guardato sinceramente la scadenza è il 31 maggio 2021 fidatevi che prima di quella data sono già sparite ho preso queste perché non sono tanto pasticciate non c'è cioccolato e quindi da portare a scuola una volta fanno questo una volta i cracker una volta la frutta così almeno anche loro sono a posto un altro macinato di bovino adulto di scottona e un altro macinato di fesa di tacchino un succo di frutta alla pera questo qui in bottiglia così almeno per quando sono a casa per una merenda ce l'hanno il gorgonzola piccante sempre da mettere sulla pizza principalmente per Maurizio mini hamburger altri di bovino adulto di scottona altra fettine di lonza di suino ho preso queste castagnole che erano scontate del 30% per i bambini i pangoccioli queste invece sono piene di zuccheri infatti ne ho prese una confezione sola tanto per assaggiarle perché io non le preparo i pangoccioli che Pia ha aperto da sola e se ne è preso uno altre un'altra confezione di queste brioche un'altra di pancetta affumicata e tre broccoli perché erano sempre negli sconti con la carta cinque confezioni di uova medie erano in offerta quindi le ho prese poi due confezioni di Lion Air classico e due confezioni di Lion Air e peperoni e anche il Gimocca gran gusto per e non mi ricordo se coupon o sconti comunque al 30% ho preso il passato tradizionale e pasta e fagioli poi il salame sempre anche questo qua al 30% e poi questo che a me sembra spec ma sinceramente andiamo a leggere no è prosciutto crudo affumicato ah ecco perché era così caro ok e quindi ho preso uno di questo metto a posto e vi faccio vedere infine le ultime cose proprio ho preso i pannolini per pia usa ancora taglia 4 l'olio di oliva perché l'abbiamo finito una pizzetta che avevo preso io ma poi mi convinceva poco allora ho preso questa qua che però non ho finito di mangiare era la mia colazione sabrino pia e giada hanno preso questa al formaggio anche loro per colazione ma ce n'è ancora un pezzo di pia e la marmellata di albicocca per quanto riguarda la spesa dell'idle è tutto e fatemi sapere appunto se anche voi usate questi prodotti e cosa ne pensate come sempre vi lascio lo scontrino e noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao come on Ah!